L'altro giorno la clamorosa denuncia pubblica dello Stato indecente in cui versa il carcere di Isernia ad opera di Eugenio Sarno, segretario nazionale del sindacato Wilpa della Polizia Penitenziaria. Oggi la risposta della Regione Molise è con l'invio a Isernia del Vice Presidente della Giunta Michele Petraroia che ha voluto toccare con mano i guasti e le carenze di Ponte San Leonardo. Cosa ha trovato? Sicuramente questo è l'istituto penitenziario che sta messo peggio in Molise. Ho trovato molte persone in spazi anche angusti e c'è necessità di una ristrutturazione, di una risistemazione sia delle celle, sia della parte riferita ai corridoi, sia i laboratori anche infermieristici. Alcuni andrebbero proprio attrezzati, resti funzionanti, penso al laboratorio odontoriatrico e quello per l'oculistica. ci sta proprio da fare una pluralità di interventi anche a tutela di questo istituto penitenziario. Perché, peraltro canto, voglio segnalare in positivo che in questo istituto non ci sono casi critici, cioè nel senso che non ci sono proteste da tanti anni, non ci sono scioperi della fame, perché i numeri piccoli consentono una gestione anche personalizzata da parte della Polizia Penitenziaria. Quindi sarebbe un peccato che magari con il rischio di questa fase storica, che Cottarelli, mettendosi a ragionare e a discutere di contenimento della spesa pubblica, potrebbe prendere spunto da alcune situazioni che non vanno, che sono oggettive e che io ho constatato oggi, per arrivare a un'idea di massificazione. Come a dire, 61 reclusi di Isernia, aumentiamoli a Poggio Reale o a Regina Celi e chiudiamo l'istituto penitenziario. Noi dobbiamo difendere invece l'istituto penitenziario. Io ho avanzato una proposta sia ai dirigenti del carcere, ma anche alle organizzazioni sindacali, per costruire una proposta, una proposta operativa, che serve a individuare quali devono essere le emergenze e le priorità, la risestiamazione dei locali, i laboratori medici. Appena predisposta la proposta della Regione Molise, sarà trasmessa al Ministero della Giustizia.